Vacanze poche, prove dei fatti per usare le parole del Premier Letta, veri e propri test per la tenuta di maggioranza e governo dopo la condanna di Silvio Berlusconi molti, moltissimi, in un agosto di grande lavoro. Anche perché le questioni sul tavolo non sono certo poche, andando con ordine. Intanto questa mattina alle nove e mezza comincerà l'esame da parte dell'Aula del Senato del Decreto del Fare. Doveva partire prima, ma è slittato a questa mattina perché si è prolungata la discussione sul testo nelle commissioni bilancio e affari costituzionali di Palazzo Madama. Motivo del contendere? Soprattutto uno, il decurtamento del 25% del compenso complessivo a qualsiasi titolo determinato per tutti i manager pubblici delle società quotate e di quelle non quotate che emettono titoli. Un decurtamento che si andrebbe ad affiancare al tetto di circa 300 mila euro già previsto a suo tempo dal Decreto Salva Italia del Governo Monti per i manager delle aziende pubbliche non quotate. Una norma fortemente voluta dall'esecutivo ed inizialmente bocciata in commissione, con conseguente forte irritazione da parte del Governo. Una frattura ricomposta poi nella notte, quando è stato approvato un testo presentato dai capigruppo di maggioranza, in deroga i regolamenti parlamentari che prevedono che siano solo Governo o Relatori a poter presentare proposte di modifica una volta scaduti i termini per la presentazione di emendamenti, che ha reintrodotto il tetto. Un testo che ora dovrà reggere alla prova dell'Aula, primo test impegnativo per valutare la tenuta della maggioranza, che sarà messa a dura prova soprattutto nell'affrontare i nodi IMU e IVA. Le soluzioni, è stato lo stesso esecutivo a dirlo in occasione della prima cabina di regia, andranno trovate, soprattutto per quanto riguarda l'imposta sulla casa entro il 31 agosto. Il tempo, dunque, stringe, si attendono finalmente proposte concrete.